Il professor Lombroso è convinto che tali fanciulli non possano essere recuperati? Dottor Moscati, voi mi stupite. Anche voi pensate che i nati da delinquenti siano già condannati a delinquere? No, avvocato. Io sono convinto che i figli dei carcerati diventino delinquenti se non gli si dà loro altra possibilità. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Avvocato, a voi vi faranno santo. Dopo di voi, dopo di voi. Andiamo di là.